Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Su raccordo Siena-Firenze è tratto chiuso per mezzo pesante e ribaltato tra Sandonato e Tavarnelle in direzione Firenze. In A1 in direzione Roma a 3 km di coda per incidente risolto tra Aglio e Barberino di Mugello e rallentamenti per traffico intenso tra Barberino di Mugello e Calenzano-Sesto Fiorentino e tra Firenze-Sud in Cisareggello. Rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Filippilli 2 km di coda per lavori tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Erest in direzione Livorno. Verso Firenze rallentamenti per lavori tra Ponte d'Erest e Montopoli-Valdarno e per traffico intenso tra Scandici e Firenze-Scandici. A Firenze per la viabilità cittadina per i cantieri della tramvia in vigore di vieti di sosta a tratti in via Cosseria tra i civici 18 e 20 e tra il civico 30 e via Crimea. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!